Buonasera, si saluta Antonio, ecco il mio giochino, guarda quel mio personaggino che bellino, 22 di livello, forza perché c'ho la boccia, l'ostrezza perché c'ho la boccia, fortuna perché c'ho la boccia, un po' di boccia da parte, belle, così non ti accorcio il tempo nelle battaglie, devo dare un occhiatino alla gilda appena creata, non posso fare niente, da poco, la gildina si chiama nessuno, così quando ti attacco compare nessuno ti ha attaccato, hai visto che è carino, bella cazzata, troppi soldi per espandere non mi serve, colpettino giusto due livellini per tesoro, e per l'altra cosa però non a me ne vedete di cosa serve, qui gira la ruota, gira la ruota, qua in armeria, c'è questo archetto che è carino però non vale la pena, invece nel shop c'abbiamo la merda nera, delle collanine della minchia, si questo è carino però costa funghi e intelligenza, non è che mica meno, corto di destrezza, vabbè, poi poi poi, poi basta, parlo un chilo, pesce morto, 33 minuti e iniziamo a giocare, grazie a tutti